Oggi finalmente shopperemo il nuovissimo leggendario, ragazzi finalmente c'è un nuovissimo leggendario da shoppare Già la musica di sottofondo è fantastica, bella rock, bella metal rock Abbiamo qui Draco, 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 Legendary Pack Value Oggi ci andiamo a shoppare proprio questo e capiremo se vale la pena o meno spendere 23 euro e passa per un brawler leggendario qui su Brawl Stars Voi ragazzi lasciate un mi piace adesso subito, anzi proprio così ci andiamo a aprire un drop Così, voi iscrivetevi al canale perché se vi iscrivete al canale vi ricordo che domenica alle 18 ci sarà il torneo Dreamers Dove chi vince nel torneo si porterà a casa un bro pass plus gratuito Allora, il regalo anzi, con questa musica punk sotto ho spento l'iPad Ok? Ok, questo video è iniziato super strano, va bene Allora, vabbè, facciamo finta che questo non è stato aperto e ce ne apriamo un altro Super raro, già meglio, ragazzi, già meglio Resta super raro, ma se non sono crediti va bene Oh, 100 monete, 100 monete, mica sono male Abbiamo anche il drop, questo qui da prenderci, si apriamo, partiamo subito con questi drop Super raro, va bene, andiamo 50, ottimo Allora, io mi sono conservata, ragazzi, un botto di soldi, questi qui, le monete Proprio per cercare di poter potenziare quanto più possibile questo draco Allora, in realtà c'è anche qualcosa del regalo del giorno, va bene, facciamo finta di niente Esperienza per due, questa non è male Allora, 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 ci sono un bel po' di cose da fare Ci sono iniziato anche il nuovo evento, questo qui, la sfida del torneo Quante volte ho detto, allora, il pacchetto, ragazzi, il pacchetto a 23,99 euro E quindi lo stesso prezzo di Melody e Lily In questo caso mi vado a portare a casa proprio un brawler leggendario Quindi, questo vuol dire, o il brawler, questo qui, è stato svalutato O Melody e Lily costavano molto di più Ho un dubbio Voi che cosa ne pensate? Allora, il primo giorno ci portiamo il brawler con il graffito Il secondo giorno abbiamo le reazioni Il terzo giorno altre reazioni Il quarto giorno abbiamo l'icona giocatore con 80 gemme Male, non è Quinto e sesto giorno altre reazioni Settimo giorno abbiamo la skin E abbiamo anche i bling Quindi, ragazzi, io qui in realtà Quello che vedo che manca sono le monete Perché io ricordo che dal pacchetto di Melody o di Lily C'erano anche le skin, ma c'erano molte monete e più gemme Quindi, forse, il prezzo più elevato ti andava compensato con gemme e monete Che in questo caso mancano Ci sono soltanto 80 gemme, che sono pochissime Io, però, vado Vado ad acquistarlo assolutamente Confermo l'acquisto e vado Va bene Il bling bling è sempre un L'hai effettuato l'acquisto correttamente? Ottimo Se me lo sblocchi, bro, sarebbe il caso Eccolo, eccolo Broader leggendario Quindi, ragazzi, questo è il mio terzo broader leggendario Wow E abbiamo avuto anche il graffito E possiamo portarci a casa anche le reazioni La reazione del drago così E la reazione del drago arrabbiatissima Perfetto Ottimo Abbiamo il nostro broader Eccolo qui Ce lo andiamo a cercare Io come leggendari ho Sandy Con cui mi trovo benissimo Spike Che mi ci trovo Sì, ma un po' di meno E poi finalmente abbiamo Anche lui che sta proprio Proprio super ok Super rock Ed eccolo qui Allora, la cosa che andremo assolutamente a fa Raga E le seguenti Lo miglioriamo Lo miglioriamo Direttamente Sì, sì, mi sono conservata I soldi apposta Per migliorarlo E l'abbiamo portato all'undici Così Poi Allora abbiamo Regolatore degli alti L'attacco successivo all'attivazione del gadget Fa anche volare in aria i nemici Colpiti per un breve periodo La salute di drago Non può mai scendere sotto a un punto salute Ok Raga Tra questi due Io non shoppo ancora niente di queste cose Voi giù nei commenti Consigliatemi quale shoppare Salva vita O regolatore degli alti Stessa cosa per quanto riguarda l'equipaggiamento Io sono sempre Io come primo equipaggiamento Io andrei a comprare sempre la difesa E poi magari Voi dovreste consigliarmi l'altro Quindi consigliatemi anche l'equipaggiamento E poi abbiamo l'abilità stellare Ogni 5 secondi L'attacco di drago successivo Rende vulnerabili i nemici colpiti Che riceveranno il 35% di danni in più per 5 secondi Questo mi sembra bene Vulnerabilità E poi abbiamo sminuzzamento Dopo aver attivato la storia del drago Drago ripresterà anche 2750 punti salute Quale dei due? Consigliatemi raga Consigliatemi Allora Ce lo selezioniamo anche Dove è andato? Ce lo selezioniamo Come missioni del giorno Abbiamo Vinci 3 battaglie Ci facciamo queste Più Un botto di altre cose Vabbè Oggi ci giochiamo soltanto con drago E capiremo Se è valsa la pena La pena Spendere 24 euro Più svariate monete Per potenziarlo Guardatelo quanto è figo Oddio Oddio Questa è andata proprio Ok Ok Allora Attacca Da un po' Da molto vicino Quindi Mappa sbagliatissima E ovviamente Più vicino è Lui più danno fa Vediamo un po' Vediamo un po' Allora In realtà Mi sembra che già Mi sono riuscita a portare Mi ero portata a casa Qualche uccisione Questa mappa Questa mappa Non è adatta per drago La dico già così Ah Perché era un testo Dove siamo Ah Eravamo alla candidata Ok Non è il momento Adatto per fare Questo esperimento Però più lontano sono Più danno drago Mi fa Ok Ok Mi piace Mi piace molto Come il brulio Mi piace molto di più Ok Ua Raga Questo C'è presso Che è infinita Raga La Ok Ah Caricata la cosa Se ne va Ottimo Raga Io come al solito Magari Avrei dovuto Prima shoppare Avrei prima dovuto Shoppare Prima provare E poi shoppare Quindi è infinita Vedete raga La cosa è infinita Ci siamo Quindi come è andata Sono arrivata seconda Ma anche l'altro Sarà arrivato secondo Mi piace Mi piace molto Abbiamo causato Un bot di danno È veramente forte Perché se si considera Che una volta Attivata l'ulti Il drago Fino a quando Non finisce La sua barra di vita Che scende piano piano Si riempie piano piano Dai punti di vista A proiettili infiniti Cioè spara A raffica Stile mitragliatrice In maniera Infinita Praticamente E poi fa Veramente Fa un botto Di danno Il ragazzo Lui è scappato Ma vabbè Potenziamoci un po' Dovrei smettere Allora di fare Questa cosa Che premo Di continuo Fino a quando Ok Ok Allora Lì su Vedo qualcuno Vediamo un po' Lì c'è un po' Di situazione C'è una situa Ok ragazzi Andrei con il mio drago Cioè con il drago Si è fortissimi Raga Con il drago Si è fortissimo Anche in questo caso Non so se convenga Sparare nella vicinanza O nella distanza Ovviamente Essendo Un broder Tank Quindi Attacca Dalla media Vicina distanza Breve distanza Non è che Adatto contro broder Che sparano Dalla distanza Pam Stecca A pocio E così via Melody E così via Però nella Nella vicinanza È davvero davvero forte Mi piace molto Come broder Sono contenta Già di averlo portato All'undicesima Sono veramente Contenta di averlo Già potenziato All'undici Quello che mi chiedo È i gadget Ragazzi Gadget E abilità a sterrare Mi piacerebbe Sapere voi Che ne pensate Questa è fortissima Fortissima Devo informarmi Soltanto Se è per la distanza O la vicinanza Se quale convenga Perché dobbiamo Farci ricaricare Un po' Ok Vado con il mio drago Devo capire Se il drago Fa più danno Nella vicinanza O nella distanza Vedete Si riempie la barra Ma no E lui se ne va Quindi sì Ok Ciao Susi Quindi bisogna Comunque organizzarsi Bene Cioè guardate Quanta vita Già così Ok Ok Che abbiamo 8 punti energia Anche Ok Scontro finale Sono per lì Scontro finale Non c'è stato bisogno Il ragazzo Il ragazzo ha detto Vado nella nebbia Provo a vincere Nella nebbia Provo a vedere Com'è la situa Ok Siamo già Alla soglia 5 Fantastico Fantastico Continuiamo Continuiamo Vorrei fare la cosa Vinci otto battaglie di fila Ma non credo che sarà Fattibile Però 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 Allora Me ne vado Nella distanza Mannaccia Perché ho chiuso la porta Perché c'è il robottino Che sta facendo Un casino terribile Appena ho chiuso la porta Non funziona più il wifi Nonostante io abbia Un ripetitore Qui nel mio studio Quindi io non capisco Però vabbè Il mio ipad È molto A sentimento Funziona Oggi non ho voglia Di funzionare Oggi Fa distanza Anche dietro Vedete Quindi Ottima anche questa Andiamo a vedere lì Mi piace Raga Mi piace Credo che questa Melody Mi piaceva un botto Lily Molto meno Infatti Lily Non la utilizzo mai Lily Non la utilizzo mai Si sono Mentre Questo mi piace Questo mi piace 23 euro Ben spesi Voi che ne pensate Secondo voi Vale la pena shopparlo Non vale la pena shopparlo Fatemi sapere Che ne pensate Che ne pensate Sto sbagliando Avrei dovuto andare Sempre lì E giocare un po' Più sulla sicurezza Avrei dovuto essere Un attimo Più sicura Ok Zitti tutti Perfetto Miguel Mi dispiace Mi dispiace Miguel Vai Scontro finale Fintanto si spara Il drago Continua a starci Ah no Comunque funziona Ok Era una prova Che stavo cercando Di capire Quindi sono Tot secondi Che il drago Funzione E basta Il drago Ce l'hai Per tot secondi Punto e basta Ok Fortissimo Veramente Fortissimo Veramente mi piace Sono contenta Di questi soldi Spesi Secondo me Può aiutarmi Parecchio Questo brawler Può aiutarmi Parecchio Il mio brawler Preferito Comunque resta Anita Dai raga Cerco comunque Di conservarmi Guarda Quello Con che coraggio Me lo stai dicendo Mi conviene Nascondermi Un secondo Per farmi Ridarmi La vita Mi serve Un po' Questo Si Vai Andiamo Con Draco Andiamo Qua Perfetto Continuiamo a sparare A oltranza Ragazzi Continua a sparare A oltranza Con questo drago Questo drago È fortissimo Questo drago Il drago Di draco È veramente Veramente Forte Allora cerchiamo Di capire Dove è il tizio Eccolo Frank Andiamo 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 Guarda là Guarda là Quanti danni fa Fa veramente Fa veramente Un botto Un botto Un botto Un botto Di danni Cioè sono in una serie Di dieci vittorie Ottimo Ottimo Vabbè io non sono ancora uscita Dalla lobby Usciremo a breve Per andarci a prendere Tutti i drop Della vittoria E così via Però mi piace Potrebbe aiutarmi Nelle classificate Ho questa sensazione Speciale Questa bella Sensazione Di Che può aiutarmi Un po' Nelle classificate Facciamo questa Guardate Facciamo questa E ci andiamo a fare Una classificata Proviamo Nella classificata Proviamo Assolutamente Nella classificata Allora Chi c'è qua Qua c'è qualcuno Me lo sento Che c'è qua Lo sapevo Ok Allontaniamoci un po' Ok Non lo Non me la sono portata Io l'uccisione Va bene lo stesso Dove sta questo Si è allontanato Stanno combattendo Tra di loro Perfetto Io me ne vado Piano piano Ok Lo inseguiamo A questo buster Wow Draco Mi dispiace bro Mi sembra di imbrogliare Tantissimo Quando tiro fuori Il gonfiabile Perché alla fine Mi pare che è un gonfiabile Il drago Ma è veramente 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 Forte Allora raro Super raro Restiamo sul super raro Ok Facciamo finta che non è Successo Quel drop Non lo abbiamo avverso Raga Ok Raddoppio Quindi quante battaglie Qua mi manca l'ultima Ottimo Mi manca l'ultima E se l'ultima Riuscisse Ad essere La battaglia Del Della Classificata Secondo me sarebbe Perfetta Allora abbiamo Che qui Riescono le cose Rapina Eh raga Rapina Ah Draco Giustamente Draco Non è ancora Utilizzabile Nelle classificate Per il momento Bisogna aspettare Un po' Un po' Come Melody Che ce l'avevo Ma non la potevo usare Stesso discorso Ok 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 Ha senso Ha senso Questa cosa Perché altrimenti Io me lo shoppo Lo porto al massimo Sono invincibile Con il nuovo Bruner Ok Ha senso Ha senso Ha senso Quindi Ovviamente Io mi faccio Prendere sempre Dall'entusiasmo E quindi Non ci penso Che forse Poi potrebbe Piper Io ti detesto Vai Dai Aiutami Un secondo Ah Vabbè Lo sapevo Ok C'era Edgar Qua quella Piper Si mette Da così Lontano Ho già detto Che la detesto Vero Piper Ok Mi serve L'orso Necessito Di orso Necessito Di orso Asperatemi Un secondo Vai orso Mi sacrifico Per lanciarti Vai orso Vai orso Sei stupendo Orso Tu sei stupendo Orso Ok Però Ok Che questa è andata Perfetto Perfetto Questa è andata Abbiamo l'ultimo drop Del giorno Dal punto di vista Di vittoria Abbiamo avuto Le nostre 100 monete Classificata Non va bene Ce ne andiamo In sopravvivenza In due Perché qui Ho altre missioni Da fare Causa In rapina O sopravvivenza In due Ok Adesso stiamo Giocando Con giocatori Quindi ce la vediamo Un po' Andiamoci a prendere Prima si un po' Di quelli Perché male Non fanno Ok Il mio compagno Di squadra Ha deciso Che si fa Un pisolino Bro Ci buttiamo Nella mischia Buttiamoci Nella mischia E fingiamo Ok Perfetto Dov'è il mio drago Datemi il drago Aiuta Eh Vattene 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 Sta un po' Dormendo Yamcha Qua Sta un po' Dormendo Non si nasconde Nemmeno Cioè Lì Ok Vabbè Non fa niente Non fa niente Ci pensiamo noi E Questo Mi rifà Questo Mi rifà Perché non ho gadget Non ho gadget Ho bisogno di gadget E ho bisogno Di un'abilità stellare Quindi raga Mi dovete consigliare Consigliatemi voi Giù nei commenti Quale abilità Secondo voi Dovrebbe Dovrei Acquistare Per potenziare Draco E renderlo perfetto Al 100% E 1 E 2 Il mio compagno Di squadra Non c'è Ce ne fu Immo Siamo circondati Siamo circondati Che è successo Questo mi sta controllando Ok Vabbè Mi stava controllando Quello Mi sto divertendo Sì Lui non ha fatto Praticamente nulla Però Raga Draco Mi piace Draco Ma poi Mi piace Molto Come Broer Secondo me Ci sta Ci sta Alla grande Mi piace Finalmente Hanno Introdotto Un buon Broer Reggendario Questa è stata Pensata bene È stata Sì però Lì gas No Ti prego Ti prego Signor wifi Ok 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 Il wifi Ci fermiamo qui Raga Perché il mio wifi Ha deciso No No Ci apriamo Un ultimo drop Mi sento Fortunata Va bene Se non sono Crediti Va bene Wow Gelindo Sorvegliante Com'è questo Gelindo Com'è questo Gelindo Epico Ho detto che mi sentivo Fortunata Com'è gelindo Ditemi un po' Allora raga Gelindo È buono Non è buono Bisogna potenziarlo Non potenziarlo Ditemi un po' Tutte le abilità Del nostro drago Innanzitutto Abilità stellari E gadget Ed equipaggiamenti Ditemi un po' Ovviamente Non posso acquistare Tutto per ora Vorrei partire Dall'abilità stellare Però voi Datemi un elenco Di quello Che Dovrei acquistare Che ne pensate Del nostro draghetto Fatemelo sapere Lasciate un bel mi piace Se il video vi è piaciuto Vi ricordo Che ci vediamo Domenica Alle 18 In live Per il torneo dreamers Mi raccomando Non mancate Il torneo È riservato agli iscritti Quindi avete capito bene Dovete pigiare il tastino Qui sotto E iscrivervi al canale Io vi saluto Ci vediamo domani Con un nuovissimo video E mi raccomando Non smettete mai di sognare Ciao